Musica Ed ecco lo sparo partita Sì, 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 Sì La gara fin di linea del 25 Quindi Giorno 120 e poi Lorenzo Andreuse E con il 521 Alle spalle di Marchetti c'è Michele Delonghi Sabrina Pilello da Marchetti a Terencia C'è Cattolica Un'altra parte di la stazione Per quanto riguarda la cattolica Troviamo sempre come una figlia della gara femminile invece Allunga Patrizia Terencia Delato Lomiti per l'uno Alza Limani da Vincicore Centro parte a Svegli che divino di prezza Vincitolo di prezzo Vincitolo di prezzo Vincitolo di Militati E fa più bene Alimo in pieni Michele Delonghi Michele Delonghi Natalia Sanbiaso Che conclude la sua gara Un tè E c'è la rivotina Sabrina Biel La regga Unulare a bimbario L'unica Grazie a tutti, Salita.